Il primo campionato italiano di nuoto pinnato per diversamente abili sarà proprio in provincia, precisamente a San Vito al Tagliamento. Così domenica 25 novembre a partire dalle 9, la piscina comunale di San Vito ospiterà l'evento realizzato con il patrocinio e contributo di provincia, regione, comune di San Vito al Tagliamento, Fipsas, Coni Nazionale e presentato nella sede del Coni Pordenonese. Per noi è una grossa opportunità realizzare il primo campionato italiano per diversamente abili di nuoto pinnato, in quanto dopo anni di sperimentazione, questo è proprio il coordinamento di una prima tappa fondamentale e con il riconoscimento a livello nazionale di questo tipo di attività con atleti diversamente abili. La seconda tappa che noi ci auguriamo di poter conquistare sarà quella di riuscire a realizzare un campionato dove ci sarà l'inclusione sociale, cioè sostanzialmente atleti normodotati, atleti diversamente abili, concorreranno nella stessa giornata di gara. È un'occasione che mettere in luce l'attività sportiva di tutte le associazioni della nostra provincia che per noi sono un grande patrimonio. A fare da cornice all'appuntamento agonistico saranno una serie di iniziative, tra le quali un mercatino allestito dalle cooperative sociali e da altre realtà associative di solidarietà. Saranno inoltre presenti uno stand enogastronomico e uno spazio giochi per bambini, mentre sabato alle 18 nella sala consigliare del comune di San Vito il campionato verrà presentato al pubblico alla presenza di testimonial olimpici e nazionali.